Attenzione, offerta imperdibile qui da Gruppo Progetto in Corso Unione Sovietica 141 Panda Hybrid Panda Hybrid in pronta consegna con la formula tutto il possibile rata a partire, attenzione, da 89 euro al mese E aggiungendo soltanto un euro alla vostra spesa vi portate a casa, attenzione, e anche uno smartphone di ultima generazione Che cosa aspettate? Venite subito da Gruppo Progetto Corso Unione Sovietica 141 a Torino Grazie